Poi succede qualcosa di fondamentale ed inizia il nostro terzo ed attuale periodo, potrei anche dire definitivo perché ci mancava un qualcosina sul palco che non riuscivamo a trovare. Abbiamo girato in lungo e in largo per l'Italia e l'abbiamo trovato a casa nostra a Firenze, con lui che ci mancava, il trago delle tastiere bianconere, il maestro Pacio Pacini! Grazie, grazie, grazie. Grazie, facciamo adesso una canzone che segna, ha segnato molto questo terzo ed attuale e futuro periodo, è una canzone d'amore per le piccole gioie quotidiane, chi di noi riesce a vivere in tempo reale è affortunato, spesso la felicità fatta di tante piccole felicità che ci passano accanto in sordina non le vediamo, invece riuscire a rendersi conto che ti sei svegliato e c'è una canzone di De Andrè che non ti esce dalla testa, sono bei momenti, questa canzone si chiama, e allora, il cuore. Grazie. 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 Il tuo cuore resuscita, e allora il tuo cuore si agita. Grazie.